Anticipazioni tempesta d'amore. Trama puntate. Mercoledì 17 novembre 2021. La Kallenberg espone ad Eric i suoi prossimi intenti. Rosalie deve perdere credibilità tra gli elettori che devono vedere in franta la sua promessa elettorale. Spingerà la Angel ad apporre la sua forma per iniziare il disboscamento delle aree vicine al prestigioso hotel. Rosalie si sente pressata, ma nonostante tutto non riesce a rivelare al suo amato i propositi della donna. Poiché tutte le prove vanno contro Eric, Florian alla fine decide di allontanarsi definitivamente da lui. Adesso Cornelius e Maya devono però guadagnare tempo per iniziare nuove indagini volte a trovare altre prove che inchioderebbero il Vogue alla giustizia. Shirin respinge di nuovo Max. Vanessa nota che il ragazzo è molto triste ed è molto dispiaciuto per lui e che forse la Seylan sta reagendo in quel modo anche a causa sua per via della loro precedente avventura. Grazie a tutti.